per gustare bene questo romanzo che vi voglio presentare bisogna aver prima letto anzi ve lo mostro il romanzo di cui già abbiamo parlato rincorrendo l'amore di nancy mitford pubblicato la prima volta nel 1945 appena ripubblicato in italiano da adelphi letto questo verrà voglia certamente di leggere quest'altro sempre di nancy mitford con un bel titolo l'amore in un clima freddo un titolo che più inglese di così non si può allora nel primo romanzo l'io narrante fanni si occupava di una cugina che rincorreva l'amore in un ambiente dall'alta borghesia di campagna o dell'aristocrazia inglese è un romanzo molto divertente ma anche molto crudele nei ritratti di una certa società o imbalsamata o fintamente rivoluzionaria questa volta è sempre fanni che parla ma questa volta lei si occupa di un'altra ragazza la carissima amica polli che è figlia di una coppia ricchissima figlia unica la madre bizzarra egoista stravagante il padre infragilito vanaglorioso stimatissimo ma 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 senile e questa ragazza è viziatissima perché è figlia unica ma è anche testarda orgogliosa fiera vuole fare di testa sua ha un cattivissimo rapporto con la madre un rapporto che non si rompe mai perché i cattivi rapporti fra madre e figlia di solito non si rompono mai anche se fanno molto male ma polli fa quel che vuole scappa va a stare per esempio con un uomo molto più vecchio di lei che non si sa nemmeno se lei lo ami o meno ma insomma magari era solo per fuggire di casa ma lasciamoli la trama al gusto del lettore dico che come nel primo romanzo anche in questo nancy mitford è una ritrattista comica addirittura divertente si ride parecchio ma spietata della società inglese del suo tempo siamo sempre dagli anni 30 in avanti e quindi lei non fa sconti a nessuno l'ho già detto nel primo romanzo e quindi alla grande aristocrazia inglese ma nemmeno al nuovo che avanza e poi qui ci sono anche le pulsioni nuove la liberazione sessuale gli ardimenti la scoperta dell'italia di parigi dei viaggi e poi il ritorno alla nostalgia della vecchia inghilterra insomma spada fioretto lama acuta quella di nancy mitford che chi ama la letteratura inglese e la società inglese di qualche decennio fa troverà abbastanza irresistibile grazie a tutti grazie a tutti